La nostra risposta sicuramente è quella di rabbia perché intanto quando siamo andati in comune sembrava che la cosa andasse per il giusto verso in quanto avevano deciso di vedere un'alternativa dove piazzare questa antenna, attaccata alle case in questa maniera. Invece ci hanno praticamente preso in giro. Sono arrabbiati e delusi i residenti della zona di via Sicilia che avevano già costituito un comitato e raccolto oltre 1800 firme per fermare l'installazione dell'antenna di telefonia a pochi metri di distanza dalle abitazioni. L'amministrazione comunale ha infatti comunicato che nonostante lo stop di qualche settimana fa l'antenna si farà. Ci muoveremo a difesa della nostra salute. È il comune che deve difendere la salute dei cittadini. In primo luogo il sindaco ha la massima autorità per questo. I cittadini avevano chiesto al comune di farsi portavoce delle loro istanze ma ieri la doccia fredda. La società ha infatti ottenuto l'autorizzazione da Arpat, unico soggetto che può esprimersi su quantità e qualità delle emissioni elettromagnetiche sulla tutela della salute e che dando il suo placet evidentemente ha ritenuto che non sussistono rischi per i cittadini. Il comune doveva semplicemente arrivare con la forza di dire troviamo il piano che vi pare ma lì questa antenna non si fa perché è a 20 metri dalle case e a prescindere dal rispetto o meno delle normative dei campi elettrici che non interessano fondamentalmente a nessuno, siamo tutti consapevoli che probabilmente sono rispettate altrimenti non ci sarebbe stato un parere favorevole a Arpat. C'è il buonsenso, è stato perso il buonsenso per catorizzare l'antenna qui e non andare dall'impresa con forza a dire abbiamo sbagliato, dobbiamo trovare una collocazione diversa, lontana abitazione vuol dire si è perso il buonsenso. Mettendo l'antenna qui il comune si troverà un contenzioso che durerà anni perché i cittadini che vivono qui non sono disponibili a subire questa ingiustizia, deve scegliere, vuole il ricorso della WIT non ci mette qui l'antenna oppure vuole il ricorso del comitato ci mette qui l'antenna, quindi qual è la soluzione? La soluzione è che il comune deve trattare con forza.